Blitz dei carabinieri del comando provinciale di Taranto al quartiere Tamburi dove è stato sequestrato un ingente quantitativo di droga ed armi. I militari dell'arma sono riusciti a individuare e recuperare due chili e mezzo di eroina, quasi mezzo chilo di ascice e 50 grammi di marijuana che erano stati abilmente occultati in alcuni anfratti nei pressi del cimitero, zona da tempo controllata dei carabinieri. La sostanza stupefacente era stata suddivisa in panetti perfettamente confezionati. È stata inoltre trovata una pistola semi-automatica Beretta calibro 9x21 completa di caricatore con 11 proiettili e numerose munizioni dello stesso calibro e di calibro 38 special. Tutto il materiale rinvenuto dai militari è stato sottoposto a sequestro ad opera di ignoti e saranno svolti tutti gli accertamenti del caso. Sempre al quartiere Tamburi nei pressi dell'area boschiva vicino allo stabilimento siderurgico Acceglieri d'Italia, zona da tempo sotto la lente di ingrandimento degli investigatori dell'arma per il traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato due uomini dopo un controllo ad un posto di blocco. Si tratta di un 42enne incensurato e di un 36enne giannuto alle forze dell'ordine, entrambi di un piccolo comune della vicina provincia di Matera. I due hanno tentato di disfarsi di due involucri in celofan lanciandoli dal finestrino della macchina. Il gesto repentino è stato immediatamente percepito dai militari che hanno recuperato gli oggetti. All'interno dei due involucri sono stati recuperati 21 grammi di eroina dalla perquisizione personale veicolare è stato rinvenuto un terzo involucro con alcuni grammi di cocaina. Nell'abitazione del 36enne sono stati trovati altri grammi di eroina e un bilancino elettronico di precisione. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale carabinieri di Taranto per le successive analisi quantitative e qualitative di competenza, mentre due uomini, fatta salva la loro presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni nelle quali resteranno gli arresti domiciliari.